Presentata l'opera di Antonio Di Gioia intitolata La Contea di Andria in Età Normanno Sveva che racconta la storia dei primi tre secoli di vita della città di Andria. La Contea di Andria in Età Normanno Sveva, conti e vescovi con i documenti del XII secolo sottoscritti dal vescovo inglese Riccardo Interrasanta, autore di questa nuova pubblicazione, Antonio Di Gioia. Che cos'ha di nuovo questa pubblicazione che ci fa scoprire della città di Andria che magari non conosciamo? Dunque di nuovo ha intanto una trattazione abbastanza organica e sistematica della storia dei primi tre secoli di vita di Andria cioè dall'XI al XIII secolo con l'elencazione di tutti i conti e di tutti i vescovi con una importante novità sul vescovo inglese e patrono di Andria, San Riccardo. San Riccardo non tanto sotto il profilo del santo quanto nella sua veste di uomo perché per la prima volta per Andria vengono pubblicati tre documenti sono dei documenti notarili redatti in Terrasanta dove Riccardo si firma Riccardus Episcopus Andrie. Questi documenti sono rispettivamente del 1158, 1160 e 1164. Sono importanti perché sono i primi e unici documenti che abbiamo almeno finora relativi al Riccardo uomo proprio, persona e poi perché ci dicono che lui in questo arco di tempo, quindi per almeno sei anni ma forse anche di più, si trova in Terrasanta dove frequenta le più alte sfere delle istituzioni religiose di Gerusalemme e la stessa corte di Gerusalemme. Si puntualizzano alcune situazioni si guarda con un occhio diciamo più legato alla storia che non al racconto che qualche volta è stato un po' diciamo fantasioso nei secoli passati. Per esempio si chiarisce, spero in maniera definitiva che abbiamo avuto un solo vescovo Riccardo ed è quello del XII secolo. Il vescovo Riccardo del V secolo invece è una figura diciamo inventata tra virgolette dagli eruditi ecclesiastici del 500 e del 600 e che però è stata portata avanti fino ai nostri giorni.